Sarà il Tribunale di Patti a decidere sul provvedimento di sospensione dalla carica del Sindaco di Tortorici, Carmelo Rizzo Nervo, disposto dalla Prefettura di Messina il 30 marzo 2015. Così come si è già deciso per il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris e per il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà l'autorità giudiziaria ordinaria e non il TAR a pronunciarsi su questo tipo di procedimenti. Così hanno disposto le sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza del 28 maggio scorso per le controversie sui provvedimenti di sospensione dalle cariche elettive. Infatti il diritto di elettorato passivo, cioè la capacità di essere eletti e di accedere a cariche pubbliche, rientra nella sfera del giudice ordinario. Il TAR poi non ha alcuna discrezionalità sull'adozione del provvedimento di sospensione. Sulla base di questo ragionamento i giudici della prima sezione del TAR di Catania, a cui si era rivolto Carmelo Rizzo Nervo, rappresentato dall'avvocato Rosario Ventimiglia, ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, indicando l'autorità giudiziaria ordinaria competente a decidere su questa controversia. Nel ricorso al TAR Rizzo Nervo aveva contestato vizi di difetto di motivazione e di legittimità costituzionale della norma applicata. Il TAR catanese, nell'attesa che si pronunciasse la Corte di Cassazione, accolse la sospensiva. Ieri il procedimento è andato in decisione, disponendo l'inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.